Buongiorno e bentrovati in questa edizione di mattino 6, la rassegna stampa di TV6 per questo giovedì 12 maggio 2016, le unioni civili sulle testate nazionali, le bandiere blu sulle testate locali, sono questi temi principali che troveremo sfogliando le pagine dei quotidiani, poi chiaramente lo sport con Pescara e Lanciano che si preparano alle ultime due partite di campionato nel basket con l'eliminazione a gara 5 degli Sharks di Roseto nella gara giocata ieri sera a Ferentino e vinta appunto dalla squadra laziale. Iniziamo la nostra rassegna stampa, poi chiaramente faremo anche il nostro break con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo per le ultime su questo fronte. Iniziamo a sfogliare le prime pagine dei principali quotidiani nazionali iniziando dal Corriere della Sera. Unione civili, ecco cosa cambia dalla Camera, il sì definitivo alla legge, eredità, figli, cognome, fedeltà, le regole per le coppie, favore 372 voti, 51 quelli contrari, Renzi una battaglia giusta anche a rischio di perdere consensi. Poi vedete una immagine di Woody Allen sotto la testata, Festival di Cannes, il romanzo di Woody, di nuovo bellissimo. C'è poi l'editoriale di Pierluigi Battista, promemoria sui bambini e di spalla Ilari Clinton nella storia, ma perché è così difficile votare per una donna negli Stati Uniti. Poi ancora al centro, laici e cattolici in Parlamento, l'alleanza trasversale, l'arcivescovo Forte, svalutano la famiglia. Sono due diversi punti di vista, sempre sulle unioni civili. Poi la fotonotizia al centro, occidentale, musulmano, sono la prova che si può il neosindaco di Londra, Sadiq Khan. E poi ancora il ministro della giustizia Orlando, riformare il CSM, interverremo entro l'estate. Lo scenario, se il no al referendum, preoccupa i 5 Stelle. Poi in basso, violenta ragazzina, era impermesso premio. L'aggressione nel milanese, tra pochi mesi il detenuto avrebbe finito di scontare la pena. Poi l'amministratore delegato di Eni, descalzi, pronto il piano per le energie rinnovabili. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Ora vediamo la prima pagina della Repubblica. Unioni civili, il giorno del sì, la lega ai sindaci disobbedite. Fiducia alla Camera, traguardo storico. Renzi, una festa per tutti. La legge va applicata. E poi ancora di spalla il caso, la battaglia del lavoro che divide la Francia, protesta antiriforma, mentre Juppé lancia un programma liberista. In basso, poi l'analisi sempre sulle unioni civili, il nuovo confine del diritto da mare, la polemica, la norma e la butade. In basso, lezione alle medie, il gommone in classe per capire i migranti. Il boom di ascolti in tv, Gomorra e Felicia vince la fiction verità. La prima pagina ora di Libero, sala ineleggibile, autogol di Renzi, così perde Milano. Panorama scopre un vizio di forma che rischia di togliere dalla corsa il candidato sindaco del PD. Il Premier non ha ratificato le sue dimissioni da commissario dell'esposizione universale. Altra rogna per Mister Expo ha dichiarato il falso per entrare in cassa depositi e prestiti. Poi la replica, seguito il protocollo, da Gospia, dal Kuwait, Gioielli e Rolex al ministro Pinotti. In basso ancora, rivolta dei sindaci contro le nozze gay. Non solo Marchini, anche i leghisti pensano di non celebrarle. Dopo il voto sull'unione civile, Verdini passa all'incasso, vuole posti al governo. In basso ancora, la Gruber difende i musulmani, sono loro le vittime. Intervista all'autrice di Prigionieri dell'Islam, Integrazione, l'unica strada. Andiamo ora a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Eccola qui. Unioni civili aumentano i diritti, ma qualche pezzo manca ancora. Renzi taglia un traguardo molto atteso, pur senza la stepchild adoption. Tempesta perfetta, 2016 fuca dal PD verso il Movimento 5 Stelle e l'astenzione. Ma il titolo d'apertura è il seguente. Ecco la prova, Sara si è dimesso per finta. Come fa a candidarsi per la legge? È ineleggibile, ha continuato a fare il commissario di Expo. Palazzo Chigi prova a coprirlo di missioni arrivate il 15 gennaio. Ma a febbraio l'ex manager della Moratti e candidato del PD firmava ancora i documenti come commissario dell'Esposizione Universale. E poi ancora, da impastato a Gomorra, l'antimafia vince in TV. Ascolti record per le fiction di Rai e Sky. In basso ancora il tritolo è per il PM Colangelo. Napoli allarme rosso in procura. E ora andiamo a vedere anche la prima pagina nazionale del messaggero. Anche in questo caso, chiaramente, l'argomento principale è quello sulle unioni civili. Dunque l'apertura del messaggero è la seguente. Unioni civili, ecco i nuovi diritti. Via libera definitivo alla legge. Renzi è una pagina storica. Lotta giusta anche se perderò voti. Le opposizioni firme per abolirla. Salvini e sindaci disobbedite. Cosa cambia per le coppie? E poi, bandiere blu, poi ne parleremo più diffusamente per quanto riguarda la nostra regione. Liguria e Sardegna, le spiagge migliori. Nel Lazio premiate ancora otto località. In intervista Woody Allen inaugura Cannes, io romantico che guarda al passato. E poi ancora in taglio medio, intanto c'è l'editoriale di Massimo Teodori. Svolta italiana, integralisti K.O. Tutto questo legato sempre alle unioni civili. E poi scontro alla CEI. L'autocritica dei Vescovi. Errore non manifestare. Al lavoro da lunedì. Ora le adozioni per i single, ma sui gay il premier frena. Di spalla l'ultimo comizio. Roma, gara tra candidati per le piazze. Poi ancora la fotonotizia. Totti giocherà un altro anno. C'è l'accordo royalties d'immagine a metà con la società. Unione Europea, la flessibilità ok, ma gli aumenti IVA restano a garanzia. Padoan, via le clausole di salvaguardia, solo con manovre di riduzione del deficit. Poi c'è il crack Etruria. Rischiano una causa. I vertici del passato. In basso Napoli, tritoro per il procuratore. Pentito rivela che la Camorra voleva uccidere Colangelo. Bari come la California. Terrorismo iPhone inviolabile. La DDA si rivolgerà alla Apple. Poi il Senato vota sull'impeachment. Brasile, Rousseff verso la sospensione. Poi registrata su Inzaputa, Londra, gaff della regina. I cinesi sono maleducati. E ora possiamo iniziare a sfogliare anche le pagine dei quotidiani locali. Possiamo partire dalle prime pagine delle quattro edizioni del centro. Qui siamo sul centro di Teramo. Gatti fa dimettere i suoi assessori. Svolta nella crisi del Comune di Teramo, i quattro membri della Giunta che fanno riferimento a Futuro In lasciano l'incarico per favorire la verifica. Ma sembra più un preavviso di sfratto a Brucchi. Poi sotto la testata polemica a Roseto. Bandiera blu negata. Pavone. Colpa dei fiumi che inquinano. Medicine costose sui salvavita. Stop alle liti tra le Asl. E poi ancora al centro Roccaraso riabbraccia il Giro d'Italia. Oggi in Abruzzo il primo arrivo in salita. Nelle cronache il Fadini di Giulianova aprì lo stadio. Inagibile e assolto Mastro Mauro. E poi ancora truffa con le auto a Nolo. In 6A giudizio affittate con assegni falsi a Teramo. E nello sport finisce a Ferentino la corsa del Roseto. A K.O. Ai playoff di basket. E poi in basso il Buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna. La gaff della regina. Un diritto dell'età. E ora la prima pagina del centro. Edizione di L'Aquila Avezzano. Sul Monam, casa dello studente, con danne definitive. L'Aquila ha confermato in Cassazione 4 anni agli esecutori dei restauri e 30 mesi al funzionario Azzu. Nel crollo della palazzina persero la vita 8 giovani e molti altri rimasero gravemente feriti. Sotto la testata Avezzano lo scandalo del liceo. Aule inaugurate mai aperte. Alunni sfrattati. E poi l'abbiamo già visto nella precedente edizione sui salvavita stop alle liti tra le ASL. Anche in questo caso la fotonotizia è la medesima. Sul giro d'Italia che arriva a Roccaraso e dunque in Abruzzo. Lotta la distrofia. Il papà corre in bici per il figlio malato. A Celano picchia un giovane antidormi. Altri guai. A L'Aquila la facoltà di economia trova la nuova sede. Andiamo avanti ancora. Edizione del centro di Chieti Lanciano Vasto. Bancario nei guai per 150 mila euro. Lanciano rinviato a giudizio direttore di una filiale della BPR. Avrebbe danneggiato un imprenditore. La segnalazione in procura fatta da SOS utenti. La difesa è un'accusa senza fondamento. E poi ancora, per la questione bandiera blu, la costa teatina ne ha tre. Fanno festa a San Salvo, Vasto e Fossa Cesia. In basso, presa con le mani nel sacco, intrappola la coppia che svuota i bancomat. E poi ancora Lancianese a giudizio. Foto di bimbi nudi nascoste dentro casa. La protesta a Ortona. Io cieco, cacciato dall'ufficio postale. Ed ora la prima pagina del centro dell'edizione di Pescara. Dopodiché andremo a vedere anche il primo servizio, quello relativo al bandiere blu. Tangente per bloccare i sequestri. Pescara, inchiesta sull'agenzia delle entrate. Il dirigente arrestato fermò il pignoramento da 20 milioni. Il provvedimento per favorire una società adottato in soli due giorni. Oggi gli interrogatori. Braccio di ferro a Francavilla. Laca contro Luciani. Bandiera blu persa. La colpa è solo tua. I richiami di cronaca. La protesta in via di sotto a Pescara. Acqua. Rischio taglio per 72 famiglie ai colli. Sbarrata con il cancello la strada per il mare. Residenti chiudono via pubblica a Montesilvano. Poi stasera a concerto a Pescara. Ecco i Negramaro pienone al palazzetto. Entriamo all'interno del centro. Pagina 2 e pagina 3. Povero mare d'Abruzzo. Solo sei bandiere blu. Bocciate Giulianova, Roseto, Francavilla, San Vito e Rocca San Giovanni. Bene Silvi. L'unico comune con tutta la spiaggia promossa è Fossa Cesia. Lo stato di salute del mare e dei servizi continua la discesa. Siamo all'ottavo posto. Fra gli approdi turistici c'è la conferma del marina di Pescara. Esclusi i laghi. Poi le reazioni. Un danno di immagine riparabile. Il presidente di Federalberghi, lo vediamo, Marco Giovannelli, conta il passaparola dei turisti ma dobbiamo lavorare. Poi ancora i sindaci non ci stanno mazzocca anni di incuria comini di San Vito e di Rito di Rocca avanzano i dubbi sulla procedura della FEE. Pavone, il sindaco di Roseto, contro la regione. Il sottosegretario lo zittisce fornendo le date. Qui vediamo le varie reazioni. Pavone, la colpa è dei fiumi e quindi della regione. I comuni si impegnano anima e corpo per ottenere il riconoscimento. Luigi Comini, siamo certi di aver rispettato tutti i requisiti per alcuni criteri oggetto di valutazione. Si sono registrati dei miglioramenti. Enrico Di Giuseppe Antonio per Fossa Cesia. La bandiera blu è il risultato di un grande lavoro di squadra fra amministratori, strutture ricettive ed economiche e cittadini. Luciano Lapenna, la bandiera blu ha le nostre due zone e in generale il riconoscimento per l'impegno delle amministrazioni comunali. E sulle bandiere blu abbiamo realizzato questo servizio. L'Abruzzo paga d'azio e perde due delle otto bandiere blu del 2015 scendendo a quota 6. Tortoreto, Pineto e Silvi, Fossa Cesia, Vasto e San Salvo. Penalizzate Francavilla e Roseto degli Abruzzi. A Francavilla hanno pesato i divieti di bagnazione della scorsa estate con il sindaco Luciani che se la prende con l'ACA chiedendosi chi pagherà i danni d'immagine. La falla di Fosso Pretaro con i reflui scaricati a pochi metri dalla battigia è stata riparata ma troppo tardi. La FEE, l'organo che assegna il riconoscimento, ha tagliato il comune chietino dalla lista delle bandiere blu. Anche Roseto, come detto, esce dalla lista dopo 17 anni consecutivi di permanenza tra le località balneari migliori d'Italia, scatenando un vespaio di polemiche in piena campagna elettorale. Chi può sorridere invece è Silvi che torna nel novero delle bandiere blu andando a rimpinguare il manipolo dei comuni del Terramano. Il dato che emerge però è il calo generale della qualità delle acque e dei servizi offerti al comparto turismo estivo, se è vero come è vero che dal 2013 ad oggi si è passati da 14 località premiate a 6, con il calo più evidente in provincia di Chieti. La trentesima edizione della manifestazione ha voluto premiare quelle località le cui acque di balneazione sono risultate eccellenti, come stabilito dai risultati delle analisi che nel corso degli ultimi quattro anni le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente hanno effettuato nell'ambito del programma nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute in collaborazione con quello dell'ambiente. Anche quest'anno è stato dato grande rilievo alla gestione del territorio e all'educazione ambientale messa in atto dalle amministrazioni, al fine di preservare l'ambiente e promuovere un turismo sostenibile. In Italia in totale sono 152 i comuni, insegniti con la bandiera blu della FEE. Proseguiamo la nostra rassegna, siamo sulle pagine di Pescara e provincia, sempre sul centro, l'inchiesta sull'agenzia delle entrate. Imparato bloccò in 48 ore il sequestro da 20 milioni. L'accusa in cambio di una tangente il funzionario congelò il debito di una società. Oggi gli interrogatori con il PM e il GIP all'Aquila. Poi ancora fisco, consulenze gratis in piazza Salotto, gli esperti dell'agenzia delle entrate del comune incontrano i cittadini su tributi e dichiarazioni. Poi la protesta in strada in via di sotto, insolgono 72 famiglie, lasciateci l'acqua, bollette pagate al proprietario, ma all'acqua c'è un debito alto. Avanti ancora, mille persone ai colli per accogliere la reliquia di Wojtyla, Folla, la basilica per l'ampolla con il sangue del santo e per la Madonna della pioggia che sarà festeggiata il 15. A Pescara soltanto 17 sì alla donazione degli organi. Oggi in piazza Sacro Cuore, lo stand informativo del collegio degli infermieri, i cittadini possono registrare le proprie volontà sulla carta di identità. E poi in basso, pensione sparita a caso dal ministro, lo storico dipendente del Michetti, interrogazione di Melilla Appoletti per il proiezionista in miseria. Avanti ancora, siamo sempre a Pescara, assolti dallo stupro i giudici. La vittima non era credibile, il PM aveva chiesto cinque anni per due pescaresi. E poi ancora la grande corsa in città, duemila atleti si sfidano, Pescara diventa una pista. Domenica la mezza Maratona del Mare, già battuto il record di partecipanti. Una festa tra stadio e riviera con passeggiata sui pattini e gare per bambini. E poi ancora in basso, lungo il percorso, 120 volontari. I runners si mobilitano in massa, scout e alunni protagonisti ai punti ristoro. A Francavilla, Laca, replica a Luciani, bandiera persa, colpa tua. Il sindaco minaccia richieste di danni per il mancato riconoscimento. L'azienda controlla che cosa hai fatto per traffico, sicurezza e servizi. Non mancano polemiche anche a San Giovanni Teatino, San Giovanni al voto, la polemica su formiche e nazisti. Caldarelli non finisce qui, attacco ingiustificabile. E poi la pagina di Montesilvano, spuntano cancelli e chiavi. La via è nostra, non si passa, sbarrata dalla sera al mattino, una traversa molto frequentata dai residenti. Da Corso Umberto si apre in direzione mare e gli atti sono già in procura. La strada Monsignor Di Francesco non c'è più. E poi per la cronaca in Via Lazio ricominciano i roghi dei rifiuti condominali, fiamme alte e scoppi nella notte. Per la politica, Movimento 5 Stelle, Di Carlo, capogruppo, il consigliere pentastellato, subentra alla Ballarini. In basso, in soccorso dell'ambiente, arrivano i sub. La Nautilus Scuba Academy in raduno a Villalago per divertirsi e ripulire i fondali dai rifiuti. Avanti ancora, cresce la rete di Ristoriamo. La solidarietà passa dal cibo. Sono cresciute fino a 19 le adesioni dei titolari di locali che fanno beneficenza. Ora si cerca una specialità gastronomica locale per fare il logo dell'associazione. Qui di spalla, convenzione comune Dog Village, Bellini. Ora sarà più facile adottare i nostri cani e gatti. Poi in alto, Montesipano Comune, bussola della trasparenza, un sito internet promosso a pieni voti. Andiamo nell'area Vestina. Brioni, soltanto 40 dipendenti hanno accettato di andare via. Scade lunedì prossimo il termine indicato dalla casa sartoriale Vestina per 154 dipendenti. Sembra esclusa una proroga della procedura, poi le parti torneranno a confrontarsi sulla vertenza. In taglio medio, nella riserva per scoprire natura e mestieri. A popoli dalle scuole di tutto Abruzzo alle sorgenti per seguire i laboratori su artigianato e biologia. Avanti ancora con la pagina di Chieti, bancario imputato a Lanciano, sia propria di 150 mila euro del cliente. Rinviato a giudizio il direttore di una filiale BPR che avrebbe danneggiato l'imprenditore. La difesa, accusa infondata. Chieti Scalo, presi i ladri del Bancomat, cadono nella trappola dei carabinieri. Un uomo e una donna bloccati alla caripe di via Ortona. E poi c'è questo sfogo in basso, io cieco, cacciato dall'ufficio postale. Lo sfogo appunto di Fabrizio. Ho chiesto la priorità allo sportello, ma sono stato allontanato. E siamo a Teramo, comune nel caos. Gatti fa saltare il banco. Si dimettono i quattro assessori di Futuro Inn. Ufficialmente lo fanno per facilitare la verifica, ma potrebbe essere il preludio alla fine dell'amministrazione. Brucchi, i dalmaziani apprezzano. Si sono resi conto che la strada intrapresa della maggioranza era sbagliata. Necessaria una svolta radicale. E poi in basso, Banca di Teramo, accordo difficile sui contratti di solidarietà. Per la cronaca, con la truffa dei veicoli a noleggio, coinvolto anche un chietino. I mezzi venivano aspettati pagando con assegni falsi. In sei a processo. E ora la pagina aquilana. Casa dello studente. Definitive le condanne. Quattro anni di carcere agli esecutori della ristrutturazione. E 30 mesi al funzionario Azzu, responsabile del collaudo. E ora la città chieda perdono il commento di Giustino Parisse. Poi ancora in basso. Ridammi i soldi o ti ammazzo il cavallo. All'Aquila due arresti per concorso in estorsione ai danni di una donna sotto minaccia per un prestito. Finiamo qui con le pagine della cronaca del centro. Poi vedremo le pagine dello sport. Prima di passare al messaggero Abruzzo, io do il buongiorno a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Questa mattina ho notato un po' di umidità. Mi confermi? Decisamente Andrea, perché l'Italia continua ad essere intressata da una vasta circolazione depressionaria attorno alla quale ruotano dei corpi nuvolosi che si susseguono anche sulla nostra regione. Ovviamente il passaggio di questi corpi nuvolosi favorisce un richiamo di correnti sciroccali lungo la fascia costiera ed ecco spiegata la nebbia che in queste ultime ore sta interessando soprattutto la fascia collinare, o che sia faccia sul versante adriatico, anche con delle piogge però in atto attualmente su gran parte del settore occidentale e nel Terramano. Nelle prossime ore ci saranno ancora dei rovesci, Andrea inizialmente come ha anticipato poc'anzi sulla Marsica, nell'Aquilano in estensione verso le restanti zone nel corso della mattinata. Poi ci saranno delle schierite probabilmente tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio, ma ovviamente poi con il sole, con l'arrivo del sole ovviamente aumenterà poi la probabilità di nuove formazioni nuvolose sulle zone montuose perché c'è instabilità e quindi non si escludono dei rovesci temporaleschi sulle zone montuose in estensione poi nel tardo pomeriggio e entrosera verso le zone pedemontane e colinare che si affacciano sul versante adriatico. Una temporanea poi attenuazione della nuvolosità è prevista in tarda serata e in nottata, ma poi nella giornata di domani assisteremo a un nuovo peggioramento del tempo soprattutto sul settore occidentale, quindi sulla Marsica, nell'Aquilano e sulle zone montuose, mentre sul versante orientale la nuvolosità sarà meno intensa e meno frequente rispetto alle restanti zone anche perché è previsto il rinforzo dei venti dai quadranti occidentali, quindi tornerà a soffiare il vento sulla nostra regione e soprattutto sul versante orientale, ciò favorirà delle schiarite sul settore orientale, ma ovviamente un cielo più chiuso con delle precipitazioni sulla Marsica e nell'Aquilano. Le temperature sono previste in diminuzione, attualmente siamo ancora al di sopra delle medie stagionali, ma gradualmente tenderanno a diminuire a partire appunto dal settore occidentale in estensione verso le restanti zone nel corso della serata e ancora più nella giornata di domani. Poi Andrea la situazione non tenderà a migliorare perché continueremo ad essere interessati dall'arrivo di corpi nuvolosi e nel fine settimana assisteremo anche a un nuovo aumento dell'instabilità perché giungerà dall'Europa centrale una nuova perturbazione che favorirà appunto un aumento dell'instabilità con probabili rovesci e manifestazioni temporalesi, quindi non si prospetta un gran bel fine settimana e poi la situazione attuale, cioè l'instabilità continuerà a manifestarsi probabilmente almeno fino alla giornata di martedì, mercoledì, ma di questa situazione poi ne riparleremo meglio nel corso dei prossimi aggiornamenti. Andrea. Certo, andrà in trasferta a seguire il tuo Pescara sabato o te la vedrai in televisione? Nel sabato non potrò seguire la squadra ma sicuramente la seguirò in tv, ci sono rimaste due partite molto importanti contro due squadre in piena lotta per evitare la retrocessione, quindi saranno due partite molto importanti per il Pescara perché io credo che la squadra debba puntare assolutamente al terzo posto perché, ripeto, abbiamo visto quello che è successo l'anno scorso con il vantaggio, quel piccolo vantaggio in più che ha avuto la formazione bolognese l'anno scorso, ha portato appunto immeritatamente la formazione emiliana in Serie A quando il Pescara aveva meritato anche addirittura di vincere, ma il solito risultato praticamente, il pareggio ha favorito appunto la salita in Serie A del Bologna. Ecco, io credo che saranno due partite molto importanti e sono contento anche per la formazione Lancianese, Lanciano con i punti di penalizzazione che gli sono stati tolti e a questo punto la salvezza è a portata di mano e il Pescara può dare un deciso, un ottimo aiuto ai Frentani con le due partite che ha contro le squadre dirette e concorrenti del Lanciano. Quindi speriamo bene per un doppio risultato per la nostra regione. Va bene, va bene. Buon giovedì e buon fine settimana caro Giovanni. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma. Allora vediamo la prima pagina del messaggio Rabruzzo, poi lo stop con la pausa pubblicitaria. Bandiere blu, la grande debacle, solo sei spiaggi ottengono il bolino di qualità FE, meno della metà rispetto al 2013. Sindaci furiosi, parte lo scaricabarile tra qualità delle acque e servizi turistici inefficienti. Poi sotto la testata, Teramo, Giunta Brucchi, Via Rimpasso, saltano i quattro assessori di Gatti. A Pescara, centinaia di fedeli per la reliquia di Papa Wojtyla, i sette dolori. Sempre a Pescara, Via Firenze, pedonale, traditrice, raffica di multe a sorpresa. E poi vediamo al centro l'Aquila, casa dello studente, confermate le condanne. Sul Mona, così ti organizzo il comizio a domicilio, la trovata di Luci, riunioni elettorali a chiamata, quando e dove volete. Il giro va in salita, tutto pronto dall'Aquila a Roccaraso, nello strappo finale, pendenze fino al 7%. E a Chieti, lo sport per tutti, ma solo se paghi. E poi dopo scopriremo il perché di questo titolo. Noi nel frattempo ci fermiamo, andiamo in pubblicità, poi la seconda parte di mattino 6. Di nuovo, buongiorno, seconda parte di mattino 6. All'interno dunque del messaggero Abruzzo, caporetto delle spiagge, dai servizi all'acqua, solo 6 bandiere blu. Polemiche roventi, laca, depurazione, pensate agli altri requisiti. Mazzocca, regione attiva per rigenerare un settore abbandonato. E poi, vedete, tra i promossi e i bocciati, ci sono due sindaci. Il promosso di Giuseppe Antonio per Fossa Cesia, D'Alfonso Ora, prenda in mano il turismo. E il bocciato Luciani, Francavilla, pronta a chiedere i danni all'acca. Poi ancora, a Pescara, le date provano la regia di Imparato. Nelle carte della finanza, le mosse del funzionario arrestato per azzerare la multa da 16 milioni all'azienda Cross di Formia. Per il favore, il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara avrebbe ricevuto 15 mila euro dal commercialista Paolo Lavalle. Le tappe della vicenda, ricostruite nell'ordinanza, oggi all'Aquila, gli interrogatori dei due arrestati. Il capo dell'ufficio legale, accusato di corruzione, sarebbe stato il regista della difesa. Sulla vicenda vediamo questo servizio anche in concomitanza con la manifestazione ieri in piazza a Pescara. Sul caso di corruzione che ha coinvolto il numero 2 dell'Agenzia delle Entrate di Pescara, Giovanni Imparato, filmato in fragranza di reato dalla Guardia di Finanza, mentre riceve una busta contenente denaro per chiudere un contenzioso, è intervenuta oggi la direzione generale che da Roma ha fatto sapere che si costituirà parte civile, a tutela della propria immagine. Nel frattempo a Pescara, dopo la perquisizione avvenuta il 20 aprile scorso, c'è riservo sullo stato dei lavoratori. Qualcuno parla di clima teso, intanto a parlare il direttore provinciale che si unisce alla voce del direttore generale, Rossella Orlandi. Questa è la posizione dell'Agenzia delle Entrate, ha manifestato in maniera molto chiara. Chiaramente per quel che mi riguarda non posso che ricondurre l'iniziativa della direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate e soprattutto ci rimettiamo all'azione dell'autorità giudiziaria per accertare i fatti e la verità. Tre giorni di informazione per il cittadino per la dichiarazione dei redditi. Piazza Salotto offre nell'Urban Box tutti gli esperti. Quali saranno tutte le questioni alle quali risponderete? Sì, le questioni in merito al 730, il modello unico precompilato, però accanto agli operatori dell'Agenzia delle Entrate abbiamo anche degli operatori dell'Ufficio Tributi del Comune proprio per evidenziare questa sinergia tra le due amministrazioni. L'amministrazione comunale che ha voluto fare questo incontro, questa iniziativa proprio perché è un momento un po' delicato, un momento in cui ci sono numerose scadenze e il cittadino si sente un po' pressoberato dalle incombenze fiscali anche perché sono argomenti ostici, difficili da trattare e quindi si voleva dare questa opportunità. Riaperta l'inchiesta su Silvana Pica, possiamo tornare sul messaggero, il cognato va in TV Si ricomincia da un'intuizione della PM Mantini, Marcello Berghella venerdì a quarto grado Avanti ancora, via Firenze pedonale, piovono multe, i vigili urbani rileggono l'ordinanza ed esplode la protesta transito vietato, a differenza delle ZTL il carico e scarico è vietato sempre il sindaco chiede l'UMI a Maggitti e poi Cosa Evasa per anni a Piazza Salotto c'è chi deve rimborsare 30.000 euro illegalità diffusa, amorosità da record e zero controlli per lungo tempo adesso il Comune presenta il conto SNAV via alle prenotazioni, Ryanair appesa al governo collegamenti per l'isola di Kvar dal 23 luglio al 4 settembre sconti del 30% fino a domenica e poi ancora centinaia di fedeli per la reliquia di Giovanni Paolo II ai sette dolori il corteo dell'ampolla seguito dalla statua della Madonna ha segnato il via alla grande festa dei Colli dopo la rievocazione del miracolo della pioggia il via nel sagrato della Basilica e poi ancora buco di 119.000 euro e debiti bilancio bocciato appenne il parere negativo del revisore alla vigilia del dibattito in aula rischia di infiammare il clima elettorale poi dolce ma in nero pasticceri in trincea contro la concorrenza degli abusivi andiamo ora nella pagina dell'Aquila casa dello studente con danne confermate colpevoli in via definitiva i quattro imputati per il collasso della struttura in via 20 settembre in cui ci furono otto morti quattro anni per i tecnici Pietro Centofanti Tancredi Rossicone e Berardino Pace due anni e sei mesi per Pietro Sebastiani dell'Azù la corte di Cassazione ha chiuso entro i tempi della prescrizione il processo simbolo sui crolli del sisma e dai parenti si alza un coro unanime grande sofferenza ma giustizia è fatta l'avvocato della vigna e si è chiuso una pagina dolorosa per l'Aquila per la sua parte più debole gli studenti fuori sede alla lettura del verdetto scene di commozione tra i familiari delle vittime e i legali di parte civile poi in basso prestito a strozzo arrestati due napoletani secondo l'accusa avrebbero fatto lievitare la somma data a una ventenne pretendendo anche l'uso del suo map pagina sempre dell'Aquila Gran Sasso Institute la Blundo in Senato attrae solo fondi scontro durante la discussione del decreto scuola risposta alla pezzo pane illazioni che fanno male alla città la senatrice 5 Stelle critica speramente la stabilizzazione dell'istituto di ricerca la collega del PD polemiche sterili e poi giro d'Italia in città ecco gli orari e tutte le strade chiuse al traffico interdizione già due ore prima del passaggio della carovana rossa individuati dai vigili urbani alcuni percorsi alternativi sul territorio in Marsica guerra totale agli sporcaccioni il sindaco di Pangrazio ad Avezzano dunque firma l'ordinanza che è stata consegnata ieri alla Polizia Municipale per l'applicazione previste multe dai 200 ai 400 euro nel mirino anche l'occupazione di suolo pubblico e gli animali domestici poi ancora la pagina di Chietiro abbiamo visto anche in prima pagina del messaggero Abruzzo Lucchetti allo stadio Angelini entra solo chi paga l'affitto la soluzione radicale del comune per contrastare la morosità delle società da mesi Palazzo d'Achille sta cercando di recuperare oltre 5 anni di arretrati e poi ancora per il futuro sono allo studio convenzioni con le società parla così appunto l'assessore allo sport del comune di Chieti Viola e poi Tales la volta buona intesa vicina con Tecne riprende oggi la trattativa al Ministero l'azienda propone incentivi per i trasferimenti e poi ancora Lanciano mancato a credito bancario a giudizio a processo l'8 novembre il direttore di una filiale cittadina della BPR non versò 148 mila euro a un imprenditore il dirigente deve rispondere di appropriazioni in debita i soldi restarono alla banca la difesa nessun reato e poi il PM Anna Benigni ha firmato la citazione archiviata invece la più pesante ipotesi di usura la pagina di Teramo si dimettono i quattro assessori del gruppo Gatti rimpasto veloce di Stefano Lucantoni Romanelli e Guardiani sono del movimento futuro in riconsegnate le deleghe al sindaco Brucchi così sollecitiamo la verifica politica in corso Piero Romanelli è tra i componenti dell'esecutivo che ha deciso di lasciare la delega ieri pomeriggio lo vediamo qui raffigurato nel tondino cittadinanza onoraria Brucchi andrà da Marco Pannella oggi il consiglio e poi ancora in basso comunali appello di sella al PID di Teramano a chiarire subito le alleanze del futuro lasciamo il messaggero Abruzzo andiamo ora a sfogliare la città andiamo a vedere la prima pagina dopodiché saremo andremo all'interno delle pagine del quotidiano della provincia di Teramo ecco qui le bandiere blu sono solo tre bene Tortoreto Pineto e Silvi Male Martinsicuro Albadriate Giulianova e Roseto solo tre chiaramente della provincia di Teramo e poi vedete la fotonotizia divisa in realtà in quattro foto i gattiani si dimettono la crisi in comune si complica con la rinuncia dei quattro di futuro in lì vediamo nell'ordine di Stefano Romanelli Luca Antoni e Guardiani in Inghilterra procede serrato il processo alla mamma di Martinsicuro la psichiatra forense condanna Samira turbata ma sana di mente Sant'Egidio la vibrata massaggi cinesi titolare nei guai per prostituzione poi ancora delibera di bilancio negata carabinieri in comuna Giulianova le opposizioni denunciano il fatto alla guardia di finanza e poi ancora basket fine del sogno Sharks fuori a Ferentino sabato all'assemblea la banca di Castiglione Pianella prepara la fusione con Teramo all'interno della città candidati minacciati interviene la Digos a Surmone i consiglieri denunciano le intimidazioni a Ranalli clima malsano che non favorisce il confronto Gatto impiccato il messaggio intimidatorio recapitato ad una giovane che intendeva candidarsi lo ha trovato sotto la propria abitazione con un biglietto dopo l'episodio la donna ha deciso di ritirarsi andiamo poi avanti gli assessori Gattiani si dimettono in blocco Futuroin manda un segnale forte a sindaco alleati e cittadinanza accelerando la verifica di giunta mossa studiata arriva a sorpresa ma piomba proprio quando sembra tutto risolto per il rimpasto delle deleghe e degli assessori e poi ancora truffa agli autonoleggi tutti e sei a processo affittavano autocamper e mezzi agricoli con assegni falsi o rubati i mezzi finivano in Europa dell'Est e poi qui ci sono i nomi dei presunti truffatori poi ancora BCC Castiglione prepara la fusione con Teramo sabato il voto sul bilancio d'esercizio il presidente Savini nascerà una banca forte del territorio il bilancio 61 milioni di patrimonio con indice del 20,47% e redditività al 7% 3.356 soci 14 filiali e raccolta a 468 milioni avanti ancora con la pagina della regione Abruzzo l'abbiamo visto restano tre le bandiere blu Terramani riconoscimento della fe confermato a Pineto e Tortoretto Silvi prende il posto di Roseto degli Abruzzi sinistra pronta a governare in quattro comuni ieri mattina le liste in corsa alle elezioni di Castellalto Bellante Roseto e Basciano ancora chiusa l'inchiesta sui massaggi cinesi a Sant'Egidio e la Vibrata la titolare indagata per sfruttamento della prostituzione le indagini secondo le forze dell'ordine all'interno del locale era possibile consumare rapporti sessuali avanti ancora il duplice infanticidio sognavo di ricucire le ferite delle mie bimbe il racconto di Samira Lupidi alla psichiatra forense che ha testimoniato di fronte alla corte di Bradford il processo in due giorni sono già decine le persone che hanno testimoniato di fronte alla corte la 24 anni di Martinsicuro è accusata di aver ucciso accoltellate le due figlie in una casa rifugio della città inglese avanti ancora bilancio negato carabinieri in comune l'opposizione non ottiene la delibera di giunta siamo a Giulianova e si rivolge alle forze dell'ordine allo stesso tempo i consiglieri di minoranza hanno presentato una denuncia alla finanza e poi ancora niente bandiera blu colpa della regione Egno Pavone e Fabrizio Fornaciari sindaco e assessore dunque puntano il dito contro lo stato dei fiumi per il mancato riconoscimento l'assurdo la decisione arriva proprio al termine di una stagione in cui non sono stati emessi dei divieti a Pineto invece Verrocchio va in difesa dell'assessore Traini il sindaco contrattacca dopo l'accusa di conflitto di interessi i 5 Stelle imparino a studiare gli atti andiamo avanti andiamo nelle pagine dello sport parliamo in questo caso di calcio confronto senza esito tra Campitelli e Vivarini decisione rimandata dopo il lungo incontro di ieri pomeriggio tra il patrone e il tecnico del Teramo oltre tre ore di colloquio sul tavolo la proposta della riduzione dell'ingaggio con prolungamento e i programmi per la prossima stagione per sapere se il tecnico di Ari rimarrà sulla panchina del Teramo bisognerà aspettare domani per il basket Roseto fine del sogno ai quarti va Ferentino fatale gara 5 per la formazione di Tony Trullo che cede 89 a 74 i laziali si troveranno di fronte Treviso esattamente come nei primi due incontri gli squali sbagliano l'approccio alla gara e ancora avanti Atria festeggia il ritorno in prima categoria la squadra Rosso Verde dopo l'esaltante cavalcata ha ringraziato i protagonisti nel teatro comunale lasciamo torniamo al centro e parliamo intanto di quanto accaduto al responsabile regionale degli arbitri Giancola ecco qui proprio attraverso le pagine dello sport del centro calci e insulti a Giancola ora basta li denuncio a Città Sant'Angelo aggredito dai tesserati del paterno non è più calcio il dirigente Aia Vastese attaccato a fine partita dopo l'errore fuorigioco non segnalato che ha caratterizzato la finale playoff di eccellenza oggi sono attese le decisioni del giudice sportivo intanto la svista del Petruzzi potrebbe costare il salto di categoria al direttore di gara Ursini di Pescara poi ancora in basso il DS Marsicano di Cicco ci sentiamo derubati il presidente di Gregorio noi penalizzati da una disattenzione ma il Pineto non ha colpe e ora andiamo a parlare di giro d'Italia Greipel Show occhio a Dumoulin a Benevento vince un altro tedesco caduta nel finale la maglia rosa vola basso ma oggi può tenerla e veniamo appunto a oggi arriva la corsa rosa Roccaraso si veste a festa il teatino Ciccone è l'unico abruzzese in gara Sciotti un grande spot il patron della squadra italo-giapponese l'invito di RCS è fondamentale questo è un evento che dà un'enorme esposizione mediatica e domani partenza da Sulmona poi l'Aquila chiaramente è un evento che noi seguiremo molto molto da vicino peraltro questa sera se ne parlerà in maniera diffusa nell'appuntamento settimanale con le due ruote su TV6 ovvero con la trasmissione però condotta da Jacopo Forcella con il suo ideatore in studio ovvero Luciano Rabottini e ora il calcio di serie B Torreira volevo lasciare il Pescara ora spero di portarlo in a il regista è il momento buio dell'anno scorso lavoravo tanto e finivo in tribuna adesso dobbiamo riprenderci quanto ci è stato tolto dalla traversa di Bologna e poi circa il notiziario verso Modena lavoro differenziato per la Padula Campagnaro forse rientrerà col Latina e andiamo allora ad ascoltare anche noi attraverso la sua conferenza stampa proprio le parole del centrocampista uruguaiano Torreira ho partito quasi dall'era nostra e quando ho visto Mitrita ha preso la palla sono andato subito in profondità e mi ha dato la palla dopo sì sono rimasto lì davanti al portiere ho pensato prima prima ho pensato metterla per fare un tiro al giro metterla contro un palo ma dopo mi è rimasto quello è andato benissimo il playoff è stato il miglior momento dell'anno penso che quelle 4-5 partite che ho fatto benissimo mi hanno spinto tanto e quest'anno quest'anno ho cominciato non diciamo molto bene dopo ho passato un paio di partite in manchina ho avuto l'infortunio e adesso adesso penso che sta andando benissimo adesso abbiamo come ti ho detto prima due partite molto difficili contro due squadre che hanno bisogno di punti ma il nostro obiettivo è andare a vincere a tutti i campi della Serie B poi se non si può vincere trovare anche un parecchio è molto importante niente il nostro obiettivo come è stato dall'inizio è andare in Serie A non abbiamo potuto andare direttamente dai primi due ma adesso stiamo lì e speriamo di arrivare al terzo posto così saltiamo il primo turno e abbiamo un po' di tempo da riposare perché è stato un campionato molto lungo il mio cartellino è di la Sampdoria ma solo penso al presente il mio presente è dare tutto per il Pescara per l'agente di Pescara che mi ha accolto benissimo in questi tre anni e niente solo voglio andare in Serie A dopo si vedrà che succederà l'anno prossimo ed ora vediamo il fronte ai Virtus Lanciano Lanciano un pieno di entusiasmo la città crede nella salvezza i tre punti riottenuti in appello hanno galvanizzato l'ambiente soddisfatti i legali l'attaccante Ferrari a Pescara una brutta figura ora serve il bottino pieno e ci sono le polemiche del presidente del Livorno Spinelli falsata la corsa per restare in B e poi in basso si parla di Lega Pro verso i play out l'Aquila punta a riavere Maccarrone e Pesoli poi ancora sul fronte Teramo incontro tra le parti sul tecnico c'è anche il Matera Campitelli Vivarini è una partita a scacchi il basket Roseto sfuma il passaggio ai quarti a Ferentino i padroni di casa sempre avanti gli Sharks pagano una serata storta al tiro dopo aver rimesso in parità la serie squadra svuotata sin dall'inizio della sfida si è capito che sarebbe stato difficile tenere le testa i laziali la stagione della McEnergy resta comunque positiva e qui vediamo il tabellino con i vari parziali 20 a 10 49 a 33 70 a 48 89 a 74 insomma non c'è stata sostanzialmente partita 20 punti per Weaver miglior realizzatore per Roseto per i laziali 30 punti di Raymond e 15 di Timmy Bowers e poi ancora Teramo a caccia del BIS con Pozzuoli in questo caso si parla dei playoff DC Silver playoff interregionali e poi in basso Amicacci l'obiettivo Scudetto è solo rimandato Palacanesto in carrozzina Marchioni mancare la finale per un punto dispiace ci riproveremo e poi ancora calcio a 5 a questa pone caccia al tricolore al Palaroma ore 20 c'è Lasti Bellarte vincere fondamentale abbiamo il 50% di possibilità questa è gara 1 sarà gara 1 della semifinale playoff Scudetto appunto al Palaroma con l'acqua e sapone che sfida l'orange Asti lasciamo il centro andiamo con il messaggero Abruzzo ci avviamo proprio alla chiusura di questa nostra rassegna stampa ripartiamo dalla serie B Pescara facciamo la magia Torreira in un anno dalle stalle alle stelle e in Uruguay ora lo aspetta la nazionale straordinaria in vista per l'assenza di Memushay forfè pesante ma ci sono delle alternative circa il notiziario Cappelluzzo e Cocco sono a disposizione mille tifosi in partenza per Modena Virtus la salvezza sarà in pugno se batti la Ternana dopo la restituzione dei tre punti la classifica fa sperare l'avvocato Chiacchio è riuscito a derubricare il caso Turchi e le inadempienze IMS IRPEF in basso la Lega Pro sirene dal Matera per mister Vivarini sempre al centro dell'attenzione la sua permanenza o no sulla panchina del Teramo il suo braccio di ferro con il presidente Campitelli per la serie D si parla di Giulianova in questo caso ma la vicenda è relativa in realtà quando il Giulianova era ancora in Lega Pro Fadini aperto assolti Sisino e Mastro Mauro e poi ancora per il basket il sogno Sharks si ferma a Ferentino Roseto eliminato in gara 5 ma era già stata un'impresa arrivarci i ragazzi di Coach Trullo pagano un avvio sottotono e serate storte al tiro di Allen e Moreno per la Lega Pro Iannini Junior tifosi dell'Aquila tornate allo stadio l'imprenditore potrebbe entrare a breve in società per il calcio a 5 carica burrito acqua e sapone crediamo nel finale come detto l'appuntamento per gara 1 di semifinale questa sera alle 20 al Palaroma e poi chiudiamo ancora con il calcio tra i direttanti il penne fatto in casa torni in eccellenza 15 giocatori su 20 sono prodotti del vivaio a Chieti l'allenatore Marino ha un passo dal divorzio troppe divergenze economiche finiamo qui la nostra rassegna stampa vi ricordo l'abbiamo già fatto poco fa ma vi rinnovo l'appuntamento con questa sera con la trasmissione veloce ci sarà l'arrivo del Giro d'Italia in Abruzzo a Roccaraso quindi tanta carne al fuoco io ringrazio in regia Claudio Di Giacomo e ringrazio voi che ci avete seguito in questa mattinata buona giornata grazie a tutti grazie a tutti